BP Cube Informa è un format televisivo di 5 puntate che sarà messo in onda per poter spiegare nel territorio ai giovani che ci stanno seguendo come la nostra istituzione BP Cube, il nostro incubatore e acceleratore di imprese, può trasferire innovazione, tecnologie e soprattutto ispirare dei talenti al fine di poterne capitalizzare i loro contenuti e lanciarli in un mercato magari più maturo. BP Cube è uno spazio innovativo a Pesaro di 1200 metri quadrati dove ospita un co-working, dove ospita degli spazi per potersi riunire, poter creare valore aggiunto partendo dall'idea e vi aspettiamo qua, vi aspettiamo su Rossini TV per scoprire al meglio come questo luogo rende innovativo tutto quello che entra e percorre questi spazi.